www.feyyaz.tv Unite parlare con chi vuoi fare guerra il secondo piano? Stiamo qui a parlare. Allora Nicola teneva ragione. Poi c'è qualcosa che vorrei stare da questo sequestro. E levante. E te ne devo capire un problema qui vuoi io. Avrà posto una malattia in base stessa? Vita la terra, Piero! Non lo sai solo che da chi non vuoi. Non lo sai solo. Non lo sai solo. Non lo sai solo. Oh, non lo sai solo. Non lo sai solo. E che bari ci sta scegare già? Se tu merdi ci stai fottendo la tua guanta. Se stai registrando la tua cosa può portare più massa suoi. Vedi da il sacco. Vedi. Vedi da chi vuoi fare guerra il secondo piano? Vedi da qui stiamo qua. Vedi da qui. Vedi da qui? Vedi da qui. Vedi da qui. e patrizi ma era una trappola appena sceva accadente subito a 20 che provoca ci stivano voi ha reto sequestro voglio fare l'accordo che vuoi a inserlo a otto a terra e noi che ci dice che non fai la stessa cosa no tu sei che in San Patrizio è fedito che ti pensi che non riesco a narrare aca l'avviso aca l'avviso aca ciò conviene a tenere un alleato come is invece che non nemmeno i commens pensiamoci pure andiamo a scena Ciccio si fortunato si fortunato grazie a tutti grazie a tutti